Di nuovo a teatro, tornano gli spettacoli sul palco del Teatro Comunale Fabrizio De Andrè di Mandello Dell'Ario. La stagione 2022-2023 ospiterà grandi nomi del panorama italiano a partire dal 22 ottobre. Non mancheranno le occasioni per divertirsi, ma anche quelle per riflettere. Il primo appuntamento sarà il 22 ottobre con la cena dei cretini di Weber, con Max Pisu e Daniele Formicola, che poi è diventato anche un film, come è diventato un film a spasso con Desi, dove l'attrice protagonista è addirittura la nostra Milena Bukotic. Ci sarà poi uno stacco perché ci sono degli eventi teatrali che l'amministrazione omaggia in occasione della giornata internazionale della violenza sulle donne e sarà Barba Blu di Laura Negretti e poi per la montagna invece un spettacolo intitolato In viaggio con Walter Bonatti, produzione Teatro Invito. La rassegna poi riprende il 20 gennaio con Ridere, ridere, ridere insieme ai gemelli di Guidonia, gag, aneddoti, imitazioni. Il 24 febbraio avremo invece lo scoop giornalistico del 1984 trovato una sega. Il famoso appunto evento dove si pensava di aver trovato delle sculture di Modigliani, in realtà erano solo tre ragazzi molto bravi ad usare il Blechedecker. Il 24 marzo abbiamo la dirompente Martina Colombari con Montagne Russe insieme a Corrado Tedeschi, poi Paolo Cevoli con Andavo a Cento Allora e poi il 9 maggio invece la nostra chiusura sarà con i Legnanesi. Tre eventi speciali poi musicali e il primo sarà proprio questo sabato, tributo a Max Pezzali. Abbonamenti già andati a Ruba ma è possibile acquistare biglietti per i singoli eventi. Si può andare sul link, si prende il biglietto, si paga e si ha anche la possibilità di avere il posto stabilito o altrimenti si va in comune, biblioteca dove c'è un'impiegata che vi aiuta a fare l'acquisto dei biglietti.